Ciao Fede, come stai? Benissimo, Steph! A me non lo chiedi? Eh, no. Come stai, Steph? Scusa, sì. Molto bene, sai perché? Perché? Perché appena finito di mangiare McDonald's, dovevo per forza dirlo. È una bella giornata. Era solo per quello. Finalmente lo portano a casa, anche a Cagliari, sono felicissimo che non mi frega nulla, è il giorno più bello dell'anno, minimo, 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 minimo. In ogni caso, sai perché siamo di fronte a una prigione? Sì, quella è una prigione, Fede. Perché dobbiamo visitarla? Più o meno. Sono stati imprigionati dei personaggi che noi conosciamo, ok? Ok. Non ti dirò chi, però sono stati imprigionati, quindi dobbiamo semplicemente andare a trovarli. Va bene. Il discorso è che questa prigione è molto sicura e non sono sicuro che si possono fare le visite, capito, alle persone che sono state imprigionate. Non sono sicurissimo, insomma, che ci vogliano. Quindi dobbiamo entrare in modi non proprio giusti. Non lo so, sto supponendo io, perché penso che non ci vogliano. Per ora proviamo a parlare con i poliziotti, vediamo cosa ci dicono, magari ci fanno Ah, entrate pure, non c'è problema. Però io ne dubito quello che intendevo. Vabbè, magari siamo arrivati all'erroio di visita e quindi ci fanno entrare, no? Secondo me non esistono gli errori di visita. È proprio quello che intendevo. Mi dispiace, ma non può cedere la prigione. Le sconsigliamo di provarci. Ecco. Ok. E anche l'altro? Boh, provaci tu. Sì. Dice la stessa identica cosa, Steph. Ok. Ok, ma dici che sparano se passo tipo... Evito. Cioè, se vuoi provare a prenderti una pallotta. Compaiono le quattro stelline di GTA V. Eh, appunto. Uguale uguale. Se vuoi provare a rischiare, Steph. No, no, no. Vai, se vuoi. No, 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 no. Vorrei finire di mangiare a McDonald's. Allora, non ci vogliono fare entrare, ok? Però io ho il presentimento che se noi non andiamo a trovare quelle persone che sono lì dentro, che continuano a dirti chi sono, potrebbero, quando escono dalla prigione, vendicarsi. Sì, quindi secondo me conviene andare a trovarle in un modo o nell'altro. Ok, sto guardando se magari troviamo qualche ingresso tipo sul retro, secondario, ma non lo so, mi sembra tutto sbarrato. Ti si vada delle domande? No. Secondo te quali sono i crimini di questi villager? Non lo so. No, perché sono davvero tanti. Sono tanti. Secondo me hanno truffato quando fanno i commerci. Eh, probabilmente. E hanno rubato appunto smeraldi facendo cose brutte. O non hanno pagato le tasse, Steph. Ma non hanno pagato gli smeraldi allo stato. Allo stato di Minecraft. e quindi è andata così. Eh, sai che sinceramente io adesso non so bene cosa c'è qua, però mi sembra... No? Uh. Sì. Mi sembra la buona entrata. Allora, io non penso, anzi, lasciate l'ho aperto, Steph. Se vogliono evadere sono anche felice e non fanno la spia, no? No, se non hanno pagato, lasciali qua. Che che hai detto? Ok, non voglio liberare niente di nessuno che non se lo merita. Non sappiamo la loro storia, quindi non li liberiamo a caso. Ma io ero d'accordo con i criminali, li avrei liberati, Steph. Appunto. Ti lascio qua. Dai che non so cosa da dire, andiamo. Andiamo. Allora. Dove dovremmo andare? Spero sinceramente di non incontrare altre guardie. Ok, Steph. No, queste non sono le strade giuste. Stiamo facendo il giro del cortile, no? Dici? Una specie di corridoio all'aperto. Non ho ben capito che... È un po' strana come prigione. Sì, sì, sì. È particolare. Sì, boh, sembra totalmente inutile. Sì, ma passiamo dal retro. Non possiamo passare di fronte che poi ci ribeggono. Ovviamente. E questo mi sembra il retro, no? Sì. Ok, allora saliamo le scale. Oh, la porta è aperta poi, Steph. No, no, si sale sempre verso l'alto. Anzi, aspetta. Fammi vedere. È pieno di gente. Ma secondo te sono... No, sono per forza prigionieri. Cioè, le guardie avevano un aspetto diverso. Non lo so, eh. Non posso. Andiamo su. Magari sono i segretari della prigione, capito? Può essere. Quindi non sono le guardie. I villager sono tutti uguali. È difficile da capire. Steph, sopra mi sembra ci sia la mensa. Ok, sembra anche a me. Poliziotte, Steph, poliziotte, mi stanno picchiando. Vai via, vai via, vai via. Cos'è successo, Fere? Cioè, non li hai visti? No, non l'hai visto nulla. E prova a salire. Ti prendono a spadate, Steph. Fai attenzione, Steph. Mi hanno dato un colpo con una spada di diamante. Sono forti. Li ho visti, li ho visti, li ho visti, li ho visti. Ti seguono. Ok, ok, ok. Secondo me dobbiamo passare da qui, Steph. La segreteria. E poi? Quello che è. E spera di non incontrare altre guardie, perché al pieno di sopra ci sono. Director, Fere. Quindi il direttore. Vabbè. Boh, salve raga, siete un po' tontazzi, quindi non dovrebbe essere un problema. Sembra impegnato nei suoi affari, quindi andiamo. Emo? Aia! Devi premere anche l'altro, Steph. Aspetta, provo io. Fere? Non è un passaggio segreto. La smetti di sbattere. E continua a darmi i colpi, sta roba. Aspetta che mangio, perché qua... Scusate. Scusate. Ecco, mi vendono cose per smeraldi. Non ne voglio, ok? Non voglio nulla di quello che vendete voi, non mi fido di gente come voi. Però ci potreste dire come fare? Sto cercando se magari... Fere! Qua ci sono dei blocchi di... Dimmi. Ma questa non l'hai notata? No. Che è? Steph, hai appena rubato una pistola in prigione e poi ogni volta ti lamenti dei miei di comportamenti. Dov'erano i polizioti, Fere? Mettila, Steph! Non lo puoi fare! Steph, ti prego. Steph! Ecco qua. Ci finiamo noi in prigione, così! Allora, c'è, 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 c'è. Prima che tornino in vita. Esatto. Ok. C'è che ne arrivino altri, soprattutto. Eh, allora... Non mi sembrano qua i prigionieri che noi stiamo cercando. Ok. No, qua ci sono dei semplici villager. Esatto. Però ho notato che qua c'è una chest. Ok. Ok. Ti hai trovato? Cavolo, Steph, sono tornati! Sono tornati! Fa malissimo! Sparagli! Sta a tornare in vita. Lasciali là, lasciali là. Allora, praticamente, c'erano delle sbarre che sicuramente ci servivano per evita. Per lasciarli chiusi qua. Esatto. Adesso li abbiamo fregati. Per fortuna. Aspetta, Fere! È questo? Oh, cavolo! Dimmi che torna dall'altra parte. Steph, ti prego! Ok, sono qua. Sono qua fermi. Ok, ok. Allora, li abbiamo fregati. C'è andata molto bene. Per fortuna. Che succede? Quelli? Eh, sbarriamo pure quelli, Steph. Io ho una barra. Tu quante ne hai? 28. Ok, andiamo a sbarrarli. Veloci, 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 veloci. Vai, 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 vai. Questi c'è. C'è da ringraziare, Steph, che in questa prigione sono tutti un po' tontazzi. Beh, quindi diciamo che siamo riusciti ad entrare con parecchia facilità. Allora. Ma va bene per noi. Allora, vieni con me. Ok. Controlliamo un attimino tutte le porte, se ci sono le persone che penso. Oh, cavolo, Steph. Mi sa proprio di sì. Allora, qua abbiamo... Oh, cavolo! Ma sei matto? Guarda chi è il trocet. Oh, no, ti prego, Steph, perché... Poi qua non si vede bene, ma lo scoprirei dopo. Leggo Ina, Slenderina, Steph. Esatto. L'ho letto bene lì nascosto, mio Dio. Poi qua abbiamo la nostra amica grandi e, infine, qua ci dovrebbe essere It, quello che sopporto meno. Allora... Anche i palloncini in mano, cioè... Allora, si sa che sei psicopatico, ma con quei palloncini e con quella faccia lo sei al 100%, si vede? Vieni con me, vieni con me. Ok. Partiamo da Baldi. Ok, voglio partire da Baldi. Di solito abbiamo un'esperienza a migliore con lui. Alla numero sei, non potevamo partire dalla numero uno. No, ora fa il contrario. Fila, ok. Allora, ci parli tu o ci parlo io? Ci parli tu. Io entro e tu ci parli. Ok. Ok. Ciao, ciao, Baldi... Steph è la versione arrabbiata di Baldi, questa. Lo so. Sono a scuola, mi sto comportando bene. Anche io. Ok, signor Baldi, tutto a posto. Tutto a posto. Ok, allora... Fede... Quando è morto Napoleone? Quanto fa 55 per 5? La capitale della Serbia. Da chi è stata scritta all'odissea e come si sono estinti i dinosauri? Con una meteora! Ma non posso... Cioè... Allora... Più o meno... Allora... Si è evoluto. Cioè, è passato dalla matematica ad avere un sacco di materie diverse? Sì. Ok. Quanto sei con me, Steph, in prigione? Ha studiato molto. Ha avuto molto tempo per preparare... Ed è ancora più arrabbiato, quindi fa domande più difficili. Direi, Steph, che la risposta che abbiamo a disposizione è molto simile a quello che sta facendo il mio cervello in questo momento. Secondo me, però, se noi non rispondiamo adesso, questo qua poi ci attacca. Quindi, io ti consiglierei che io ci chiacchiero e rispondo a quelle che so e tu ne mentre googli le altre. Hai il telefono vicino? Sì. Ok, allora, non mi ricordo quando è morto Napoleone. Secondo me era 1692, ma non credo proprio. Allora, l'ha data precisa, non me la ricordo. Però dovrebbe essere 1600. Quando? In ogni caso, 55 per 5 dovrebbe fare 250 più 25, quindi 275. E questa te l'ho detta. Allora. Allora, contando che Wikipedia penso che sia ancora oscurato oppure no. Poi, da chi si è stata scritta l'Odissea, Omero, e siamo a due. Come si sono estinti i dinosauri? Con una meteora, e siamo a tre. Eh? Eh, allora. Sì? Ma lo dici? Mi dici solo la data, porca miseria. Dove la devo cercare? La morte, aspetta. Qua, allora. Poi un po' di Coca-Cola di McDonald's. Qua mi dice 5 maggio 1821, è possibile? 1000? 821, no. Boh. Se mi stai dicendo altre cose. Boh, non lo so. Non credo, non mi ricordo l'editura a 1800. No, 5 maggio 1821. Ok. È nato nel 1769 ed è morto 5 maggio 1821. Ok. Napolone è buona parte, lui, basta. Quindi, 1821? Sì. Ok, la capitale della Serbia, secondo me, era... Cioè, proprio della Serbia, capisci? Eh, me la ricordo pure perché... Aspetta, Steph, devo nascondere il cellulare sotto il banco. Ok, vai, veloce, veloce, veloce. Ci stiamo mettendo troppo. Esatto, esatto, non va bene. Bel grado. Bel grado, sì. Ok, 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 ok. Però è pronta ad uscire? Io rispondo. Mi prendo la responsabilità delle mie colpe. Muoviti. Muoviti. Dai, tranquillo. Muoviti. Ok. Io l'ho risposto, ho continuato a fargli dei versi all'infinito, l'ho cliccata 20 volte con la risposta. Secondo me l'ho confuso e non ha più capito che fare. Allora. Ci dispiace Baldi che tu stia qui, ma è andata così. Nella prima ci ho avuto a che fare io, ora tocca a te. No. Perché io, Jason? Ma a me non sembra tranquillo. Dai, che peggiore, Steph. Perè, 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 chiudi, chiudi, chiudi. Cavolo, Steph, questo è pazzo. Che facciamo? Non lo so. Vado. Calmati. Perè, perè. No, 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 Steph, 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 Steph. Steph, Steph, mi sta ammazzando. Allora, al mio tre chiudi. Ok. Vai. Ok. Ho due cuori. Due cuori di vita. Mi sa che con lui non fa parlare. Penso di averti anche sparato. Eh, sì, Jason mi sa che è rimasto un po' il po' più arrabbiato degli altri. Anche mi sono appena reso conto che qua c'è un po' di tocca di armi. Ma. Fai il giusto a destra? Vabbè. Ma che ci fa? Allora, Slenderman sarà più tranquillo, immagino, no? Guarda se come Jason. Allora, io non smetto mai di guardarti. Non si sa mai. Ok, io, bisogna sempre guardarti in faccia. Così siamo tranquilli. Ok. E trova le pagine. Come trova le pagine? Allora, una ce l'hai in mano. Una è qui alla mia destra che guardo ma non guardo perché devo continuare a guardarti. Ah, una è qua. Una è là. L'ho presa. Guarda, c'è Rosland. Ok, però parlava al plurale, Fere. Qui sopra. Un'altra. Due. Ok. Non mi sembra ce ne siano altre. Due, tre. Va bene. Ti hanno bene? Te li tiro addosso. Ti hanno bene? Tira lì addosso. Continua a guardarle e andiamo via. Ok. Aspetta, aspetta. Tieni. Così, Giuseppe. Dov'è la porta, Stef? Sto uscendo dal... Ok. Cavolo, chiudi! Basta. Tutto a posto? Ok. L'importante è far visita una volta a tutti. Poi ce ne possiamo anche andare. No, questo non ci voglio entrare, Stef. Anche io mi fa un po' più paura degli altri. Aspetta, aspetta, aspetta. Andate, ma... Dai, vai, vai. Non ci voglio entrare, è proprio brutta questa, eh. Ok. Allora, sembra tranquilla. Ci parlo? Io mi metto qua, Stef. Sì, sei vicina? No, no, per niente. Mi metto qui dietro, nascosta. Vieni, vieni. Tranquil, sembra tranquilla. Vado? Oh, mamma mia! Non ci guarderemo più in faccia, ti prego! No, Stef, inquietante. Non so che dirti. Che fa? Boo! Eh, sì, ci ha fatto paura per davvero. Ok, andiamo, basta, basta. È proprio brutta. Spera di smetterla di prendere le porte anche tu, ok? Allora, ci siamo? Speriamo di non averla fatta arrabbiare. Ne mancano solo due, è quasi finita questa tortura. Poi c'è, torniamo a casa, è andato tutto per il meglio. Allora, grandi che vedo che si è evoluta, dato che ha portato i cannoni in prigione, ok? Io non starei così vicino alla grandi, sinceramente. Mi piace. Non mi sembra un posto tranquillo. Mi raccomando, mangiate tutto. E intende... Oh, cavolo, Stef, quanta roba! Fai prendere anche a me, dai. Va bene, nonna. Sì, guarda, non ho fame in questo momento. Stiamo mangiando tutto. Non ho fame, non ho fame. Guarda! Stiamo mangiando tutto, tranquilla! Questi sono i biscotti che mi sono avanzati, addio! Oh, cavolo, aveva due porte! È più a porta questa! Vabbè. Cos'era quel rumore? Non lo so, mi è sceso un colpo! Tutto a posto? Che è sto rumore? Non lo so. Forse Granny ha sparato un colpo di cannone. Eh, può essere. Sembrava un rumore di qualche passaggio segreto che si apre. Quindi non lo so, secondo me è Granny che sta facendo cose strane nella sua cella. Ok. Forse si è accorta che non abbiamo mangiato tutto. In ogni caso, manca soltanto it. Io continuo a sentire i rumori, vabbè. Quindi, facendo finta di nulla con i rumori che sentiamo... Ma vuoi una torta? Manca solo lui. No. Tieni, noi abbiamo... Io ho del salmone. Buono, eh. I biscotti, guarda che buoni. Non sembra molto contento. No, per niente. No. Non lo voglio, il palloncino. Lo voglio, il palloncino? No! No, no, no. Però secondo me, Fede... Guarda, guarda, allora. Abbiamo una bella torta. Sì, Fede. Il tuo compleanno, Jit. Fai un ragionamento con me. Non riesco a metterlo nella sua parte, non c'è spazio. Dimmi. Se noi lo facciamo arrabbiare... Lui vuole soltanto farci i palloncini, poi scappiamo. Se noi lo facciamo arrabbiare, poi ci perseguita quando esce dalla prigione. Ok. Invece noi, c'è anche questo palloncino. Ok. Ce ne prendiamo una testa. Molto volentieri, guarda, guarda, ce l'ho in mano, te lo dimostro. Ok, ok. Ti lasciamo anche la torta. Ce l'abbiamo ancora in mano. Perché sei un bravo pagliaccio. Chiudiamo. Ciao. Chiudiamo. Ed è tutto finito, ok? Ok, Steph, c'è solo un piccolo problema. Che noi ci siamo chiusi dentro, questa prigione. No, vieni, 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 vieni. Eh, ma ci attaccano, Steph. Lo sta a fare. Non puoi considerare a spararli, Steph. Ho sparato anche un villager, scusate. Steph è un criminale, Steph, ci prenderanno. Veloce, 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 veloce. Ci prenderanno. Noi pensiamo... Che cavolo ci fa un creeper? Veloce, 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 veloce. Buongiorno, sì, tutto bene. Questa volta se mette a vare, ne varete. Almeno così in secondo a voi invece che a noi. Ciao. Arrivederci. Arrivederci, non ci vedremo mai più. Ok, dai, è andata bene. A parte qualche piccolo inconveniente, come tu che hai sparato dei polizioti, Steph. Cosa c'è di meglio della domenica mattina in prigione a visitare Baldi, Jason, eccetera, eccetera. È stato proprio piacevole. Guarda, Jason è stato l'unico che ha realmente attentato la nostra vita, Steph è stato terribile. Beh, però diciamo che non ha mai mentito. Si capiva fin da subito che era aggressivo. Assolutamente, sì. In ogni caso, ci vediamo così. Qua sotto compariranno altri video. Iscriviti al canale, cliccate la campanellina e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.